Buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde. Oggi parleremo di GAE e GPS rispondendo ad alcune delle vostre domande. Come si compila l'istanza per la scelta delle scuole per le gradatori di istituto di prima fascia per i docenti inseriti in GAE? Allora innanzitutto diciamo che c'è tempo fino all'11 luglio per compilare le istanze per la scelta delle scuole per le gradatori di istituto di prima fascia per chi è inserito in GAE. Diciamo che si compila attraverso le istanze online nel Ministero dell'Istruzione scegliendo le scuole per ogni singola classe di concorso per cui il docente è inserito in GAE. Quindi per ogni gradatore è possibile scegliere le scuole in cui inserirsi in prima fascia delle gradatorie di istituto. Per vedere come si compila a tale istanza vi consiglio la visione del video tutorial di riferimento che ho fatto proprio in giornata. Domanda numero 2. Quando e in che modo vengono scelte le sedi di organico relative a ciascuna gradatoria GAE o GPS? La scelta di tali sedi è prevista tra la fine di luglio e la prima decada di agosto. Il tutto avverrà attraverso procedura informatizzata attraverso le istanze online dove gli aspiranti possono indicare con preferenza sintetica oppure analitica tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinano fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. Terza e ultima domanda. Come avvengono le assegnazioni delle esperienze annuali da GAE e da GPS? Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano agli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata, nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in gradatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Dunque, se non si dovesse accettare, praticamente farebbe il rifiuto all'incarico, che si verrebbe poi depennati totalmente da tutte le GPS o da tutte le GAE. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo online. Speriamo che tali risposte possano essere utili ai nostri telespettatori. Continuate a seguirci sui nostri canali social, Facebook, YouTube e anche sul sito www.tecnichedascola.it perché tratteremo tematiche come queste e tanto altre ancora. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!